Rosà, promuovere la partecipazione attiva di anziani pensionati o privi di occupazione in attività socialmente utili, dando loro in cambio il riconoscimento di un rimborso spese di 10 euro l'ora. È il nuovo progetto civile varato dal comune di Rosà che nell'iniziativa ha investito 10.000 euro del bilancio comunale. Diverse le attività in cui saranno impegnati gli anziani aderenti al nuovo progetto civile, come il trasporto, mediante due mezzi appositamente attrezzati, di persone malate e disabili, in ambulatori, ospedali o cliniche private in occasione di visite mediche.